ciao a tutti benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi sarà una lettura per la prima parte del 2022 per il segno dei pesci vi ricordo sempre che sono letture di tipo generale sono fatte per un collettivo quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi voi prendete i messaggi che vi servono e quelli che no semplicemente lasciateli andare all'universo se volete poi avere un messaggio più completo vi consiglio anche di ascoltare il vostro ascendente o segno lunare la lettura sarà divisa in due parti nella prima parte vedremo quello che diciamo il movimento delle energie per tutto il periodo diciamo i fatti un po più salienti e con i movimenti più importanti mentre nella seconda parte della lettura vedremo lo sviluppo dell'anno mese per mese ok bene mostrami pesci primi sei mesi del 2022 energie generali queste sono un po troppo le rimettiamo dentro una carta grazie l'eremita bene segno dei pesci siete in una fase o sarete entrerete insomma in una fase di lavoro personale ci sarà questa fase di presa di coscienza aumento della coscienza ci sarà una sorta di aumento diciamo così della vostra saggezza prenderete probabilmente consapevolezza di diverse cose che vi circondano grazie ad un lavoro di tipo introspettivo diciamo che sento che diventerete osservatori di voi stessi di come vi comportate e di come reagite a determinate provocazioni che vi fanno andiamo a vedere più nello specifico perché c'è questo remita ok allora iniziamo con un essere ordinari la morale vedo sotto quindi andiamo avanti un attimino vediamo fino a fine mazzo ok allora essere ordinari e la morale quello che sento è che c'è qualcuno di voi che prenderà una sorta di ritmo in quello che è repressione in quello che è la routine quotidiana si ritornerà ad apprezzare sento quello che sono le piccole cose della vita quello che è il proprio il lavoro quotidiano lo svolgersi quotidiano anche dell'attività non solo lavorativa ma proprio anche magari di casa piuttosto che il modo in cui quotidianamente ci prendiamo cura anche un po di noi stessi è proprio quello che viene fatto giorno per giorno quello che viene fatto in modo costante c'è questo acquisire questo questa questo nuovo mi verrebbe da dire amore di vita questo nuovo amore per la vostra vita ok sento che si lasceranno indietro determinati tipi di rigidità con questa morale probabilmente per qualcuno vorrà dire che ci sarà una specie di rivalutazione di quello che il calcolo piuttosto che l'organizzazione piuttosto che per qualcuno può anche parlarmi di quello che è lasciare indietro un certo tipo di freddezza un certo tipo di credenze anche religiose credenze limitanti ok perché comunque anche se si cerca di fare questo lavoro di lasciare indietro abbiamo sempre una carta della repressione è un 10 mi parla comunque sempre della fine di un ciclo e dell'inizio di un nuovo ciclo però comunque è sempre una carta che fa riferimento ai pesi un po che ci si porta dentro che ci si porta dietro per molti sono pesi di tipo mentale sensi di colpa piuttosto che credenze limitanti e sento che ancora questa energia è da lavorare comunque abbiamo poi la carta del in viaggio quindi quello che sento è che c'è qualcuno che ha proprio bisogno di affrontare magari un viaggio una vacanza un fine settimana insomma oppure mi riporta quello che è la stessa energia dell'eremita ok quindi a quello che è un viaggio di tipo interiore può essere anche quello che è un viaggio che viene fatto per imparare delle cose comunque abbiamo poi afflizione al contrario e il ribelle al contrario sì probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di uscire da questo da questi da questa sorta di pensieri continui ripetitivi che creano solo ansia che creano panico che creano preoccupazioni che magari sono anche un po infondate nel senso che poi quando uno entra in un determinato tipo di loop sicuramente è difficile uscirne è difficile quando uno è in una in una situazione di bassa energia diciamo così o di energia un pochettino stagnante e si fanno sempre i soliti pensieri è difficile poi riuscire a risintonizzarsi sulle frequenze positive quindi è un po quello che sento l'inizio del 2022 vi porterà insomma e sento anche che però questo adattarsi anche un po questo re imparare ad apprezzare le piccole cose della vita vi porterà ad una nuova flessibilità nei confronti di qualcuno di qualcosa o anche solo di voi stessi ci sarà come una sorta di di indulgenza mi verrebbe da dire come se questo viaggio insomma vi aprisse la mente e ci fosse una nota un po più leggera mi verrebbe da dire ok andiamo a vedere che cos'altro hanno i tarocchi di osho da dirvi allora la voce interiore che equivale alla carta della sacerdotessa wow queste sono un po troppe le reinserisco andiamo a vedere ancora una carta solo per piacere e grazie per gli amici dei pesci allora la voce interiore mi parla di quello che anche qui come le remita qualche cosa che bisogna lavorare da dentro le remite più una fase di ricerca spirituale di scavo di capire perché sono così perché reagisco così perché questa cosa mi dà così fastidio mentre la voce interiore è più un perché mi sento così perché ho queste sensazioni il mio istinto mi sta dicendo queste più seguire l'istinto è una cosa di pelle una cosa a pancia di pancia scusate una cosa a pelle una cosa fa di pancia vedo che comunque c'è la stesa conclude in modo positivo perché abbiamo comunque la carta del successo abbiamo la carta del riconoscimento quindi secondo me c'è solo una ritrovata flessibilità in quello che è un'indulgenza anche in quello che sono le vostre responsabilità piuttosto che il vostro tipo di atteggiamento e questo vi porterà comunque a quello che è diventare più connessi con il vostro istinto che vi porterà a sua volta a quello che è il successo che può essere un successo sia di tipo materiale ma anche di tipo morale o magari per quello che riguarda il riconoscimento che arriva bene cari amici dei pesci andiamo adesso a vedere mese per mese come si svilupperà l'anno ok vi ricordo che se siete cross watchers ossia se siete venuti a vedere qui però il segno dei pesci la lettura potrebbe essere una lettura a specchio e quindi potrebbe risuonare come una lettura per voi bene andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi per ok allora gennaio abbiamo un 3 di bastoni un asso di pentacoli per febbraio un 3 di coppe per marzo 2 di pentacoli per aprile e un papa per maggio bene allora questo e poi abbiamo un asso di spade e un cavaliere di scusatemi un re di coppe per giugno c'è qualcuno che vuole iniziare qualcosa c'è una sorta di ri 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 inizio ok perché sento che queste due carte partono con gennaio e febbraio dove c'è questo progettare questo guardare al futuro questo mettere in marcia un qualche cosa che avrà un inizio di tipo solido avrà un inizio che metterà le radici marzo in effetti abbiamo una carta di celebrazione che quella del 3 di coppe quindi mi parla di quello che potrebbe appunto essere una celebrazione di questo nuovo inizio magari di questa nuova situazione aprile non lo vedo poi così stabile ci sono degli alti e bassi se fosse una relazione potrebbero esserci degli alti e bassi motivi o il 2 di denari può anche parlare di quelli che sono gli alti e bassi di tipo finanziario a maggio abbiamo un papa che mi può parlare di quello che è un tipo un certo tipo di passaggio di step diciamo che si farà oppure può anche parlarmi di quello che è una sorta di viaggio verso l'illuminazione o verso se fosse una stesa di lavoro potrebbe anche essere un riconoscimento una promozione un qualche cosa che arriva dalla società insomma dall'ambiente esterno per giugno abbiamo un asso di spade con un re di coppe e mi parla di quello che potrebbe essere una comunicazione una chiacchiera un qualche cosa un qualche tipo di comunicazione o conversazione che si effettua con questa persona con il re di coppe potrebbe rappresentare un personaggio magari più in alto di voi nella scala gerarchica o semplicemente una persona più più anziana più vecchia di voi o più saggia semplicemente o potrebbe essere un qualche tipo di comunicazione che viene però fatta dal cuore viene fatta in modo maturo un discorso una conversazione andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo tre bastoni per piacere grazie andiamo a vedere gennaio ok abbiamo una luna e un'eremita allora giustamente sento che questa è l'energia che un po accompagna l'anno anche un po fa anche cominciare l'anno ok allora l'eremita mi parla di quello che è un percorso spirituale una sorta di percorso interiore che anche la luna mi rimarca alla fine ok è un qualche cosa per qualcuno che viene dal passato come se fosse uno scheletro nell'armadio è un qualche cosa di risolto che va comunque affrontato per far sì che poi a febbraio ci possa essere questo asso di denari fruttifero prolifico insomma che mette delle radici che possano portare a uno sviluppo concreto devo vedere un pochettino perché c'è questo asso di denari per piacere grazie abbiamo una stella al contrario andiamo a vedere che altro perché sento che qualcuno in un certo senso non se lo aspetta è un appeso in un certo senso qualcuno non se lo aspetta qualcuno sta come dire non ha più questo desiderio non ha più questa speranza la peso mi parla comunque di quello che un'energia bloccata di quello che è il vedere le cose da un altro punto di vista mi parla di quello che è un certo spirito anche di sacrificio ok quindi è come se per dare inizio a questo nuovo progetto a questo nuovo relazione non ci fosse più tanto il desiderio di sacrificarsi o di sacrificare qualche cosa comunque c'è proprio fortemente questo lavoro di introspezione andiamo a vedere il 3d coppia per piacere grazie che cosa ci parla il 3d coppia per piacere grazie 3d coppia mi parla di un 10 di bastoni al contrario è un fante di spade per qualcuno vista così per qualcuno mi potrebbe voler dire che si festeggia una separazione in realtà perché c'è comunque questo 10 di bastoni che mi parla di quello che il lasciare indietro c'è il bisogno di lasciarsi indietro un certo tipo di energia acerba di energia immatura infantile ok per qualcuno potrebbe essere una relazione per qualcuno potrebbe essere una situazione perché comunque abbiamo anche un 3d bastoni all'inizio del dell'anno che mi parla comunque di un progetto comunque sento che diciamo verso marzo così c'è una sorta di dubbio che viene fuori su quale sia la strada migliore da affrontare su che cosa diciamo si può tenere ancora focalizzata l'attenzione su quello invece che è meglio lasciare andare il 2d pentacoli è spiegato da una regina di spade al contrario e da un diavolo al contrario sento che qualcuno ha perso il suo potere personale il suo potere decisionale ma sento proprio il suo potere personale per una sorta di come dice l'eremita qui come dicono la luna e leremita qui è un po come se questa persona si fosse persa di vista come se voi vi foste persi di vista ok andiamo a vedere perché c'è il papa per piacere grazie con una carta ok allora il papa è spiegato da un dieci di spade al contrario cinque di spade al contrario 3d pentacoli al contrario e la peppa e 3d per non farvi mancare nulla e il 3d spade al contrario qui c'è bisogno sento con il papa di qualche intervento esterno io sento che il papa è un qualche tipo di terapeuta che state comunque o che andrete a contrattare o una persona di comunque a cui voi fate riferimento una persona di tipo saggio è una persona comunque colta sono quelle persone che aiutano comunque gli altri a star meglio non potrebbe essere la religione per qualcuno magari vi possiate buttare nella religione o in qualche personaggio religioso per qualcun altro potrebbe essere semplicemente una figura un terapeuta appunto un guaritore dell'animo mi vorrebbe da dire al quale voi facciate farete insomma riferimento perché qui sento che c'è una profonda una profonda un profondo dolore ok c'è un profondo dolore inerente a un progetto c'è una sento come un'impronta ad abbandono come se qualcuno fosse stato abbandonato o se voi stessi vi foste abbandonati in un certo senso quindi maggio lo sento un mese un po impegnativo andiamo a vedere giugno gli ultimi due carte per piacere grazie due carte per spiegarmi la soddisfare grazie giugno è spiegato da un 6 di pentacoli al contrario e da un fante di bastoni al contrario sento che questo tipo di comunicazione ricalibra gli equilibri esistenti ok magari è una comunicazione come vi dicevo io fatta col cuore però non è detto che sia in dolore anche se fatta col cuore sento che vi esce qualche cosa sento che siete voi che comunicate un qualche cosa a un'altra persona ad un'altra energia ok per qualcuno potrebbe tutto questo processo rappresentare un certo tipo di separazione da una relazione di tipo romantico o anche lavorativo volendo è proprio il ritrovare un po la vostra strada non stare dietro a idee a chi mere che non sono le vostre che sono quelle degli altri andiamo avanti l'ultima carta perché c'era grazie per l'amico dei per gli amici dei pesci vediamo ultimo consiglio da darvi wow wow allora anime gemelle mi parla di yin e di yang mi parla di zen mi parla di bilanciare un qualche cosa e questo mi viene fuori anche da questa carta mi parla di quello che un unione o una dualità e mi parla di quello che il complementarsi l'un l'altro ok la seconda carta mi parla di relazioni karmiche e questo lo posso tranquillamente associare a questo diavolo che di solito mi parla sempre di quelle che sono un po le relazioni tossiche i ganci energetici insomma i vampiri energetici anche allora e qui mi parla di quello che sono i risentimenti piuttosto che le elezioni da da imparare mi parla anche di quello che è l'amor proprio ok quindi normalmente le relazioni karmiche arrivano un po sempre per illuminarci su quello che è l'amor proprio ok bene cari amici dei pesci questo è quello che avevo per voi per gli inizi del 2022 spero che in qualche modo la stesa vi sia stata d'aiuto se si mettete un like al video iscrivetevi al canale e condividete io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao